Parliamo di trasporti marittimi, riunione del coordinamento per la mobilità con i sidaci isolani. Salvatore Sodano, di che cosa si è parlato? Si è parlato nuovamente del problema della continuità territoriale per quanto riguarda i cittadini dell'isola Dischia e Procida e principalmente anche per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta. Abbiamo riscontrato, per quanto riguarda le persone che hanno problemi di mobilità, grosse difficoltà negli ultimi periodi, principalmente da quando abbiamo lasciato per un po' la situazione con la regione della Campania per queste motivazioni. Infatti le navi sono diminuite anche da parte della Caremar che può trasportare le persone che hanno degli handicap ma anche handicap momentanei, oppure la signora col passeggino, ci siamo accorti che ci sono grosse difficoltà. Oltre a questo in questo periodo, causa mareggiare, causa problemi che ci sono stati, sono saltate tantissime corse e quindi la famosa parola continuità territoriale sembra diventato un vago mistero. Per cui ci siamo rivolti ai sindaci che a loro volta già avevano fatto una richiesta di audizione alla regione Campania proprio per questi problemi. Quindi continuità territoriale, ammodernamento dei mezzi e appunto rispetto per le persone con mobilità ridotta nonché tempi di percorrenza e tariffazione. I sindaci hanno accolto, come al solito, io sono contento che accolgono e partecipano contro la navola però ci siamo detti questa mattina di essere un attimino più vehementi, più forti, con più forza ad arrivare in regione per cercare di far valere questi diritti dei cittadini senza scontrarsi con nessuno. Infatti in qualche altra nostra dichiarazione abbiamo chiesto che tutti gli attori del comparto facciano la loro parte, amministrazioni, la regione, gli armatori e i cittadini. Noi abbiamo delle esigenze, quindi dobbiamo cercare di risolvere in qualche modo e cercare di far diventare una parola, continuate a rimanere, del vocabolario ma veramente, non solamente un fatto aleatorio a quello che diciamo ma poi puntualmente non si verifica.